Dal 7 dicembre all'8 gennaio 2023 il Museo del Giocatole di Pinocchio di Via dell'Oriola a Firenze apre al pubblico due interessanti mostre. Questo è nella finalità del museo perché quando siamo stati presenti il giorno dell'inaugurazione il direttore Giuseppe Garbarino, che vedete a mio fianco, disse che oltre alla tradizionale esposizione questo museo sarebbe stato aperto a delle nuove proposte, a delle innovazioni, anche a delle novità come lo sono le due mostre che stanno per essere inaugurate. Questo pomeriggio ce le presenterà ovviamente lui, poi ci sono altri protagonisti sia per quanto riguarda le due mostre congiunte che si inaugurano oggi e poi fra gli ospiti abbiamo visto arrivare pochi minuti fa il Cavaliere Artusi che alla fine del suo giro cercheremo di raggiungere perché è uno dei massimi esperti della storia fiorentina e in particolare il suo Atenato Artusi visse in quel periodo anche Carlo Collodi, Carlo Lorenzini in arte Collodi. Giuseppe Garbarino. Bene, grazie a tutti. Questa sera abbiamo l'occasione di inaugurare due mostre appunto per un periodo natalizio. Una è appunto qui con l'amico Guido Cecantini che è un collezionista di libri di Pinocchio ma in dialetto. Questa è l'assoluta novità perché libri di Pinocchio ovviamente ne esistono migliaia, forse milioni in tutto il mondo perché è stato dopo la Bibbia il Corano credo sia il libro più tradotto nel mondo però per la prima volta per lo meno personalmente abbiamo visto dei libri di Pinocchio tradotti nei dialetti italiani nei abruzzese, napoletano, siciliano, uno toscano di una particolare zona che è nel Casentino. Quindi questa è l'assoluta novità. Esatto, questa qui è la parte letteraria. E poi abbiamo queste opere come questo Pinocchio qui dietro di noi, una bellissima... devo dire è un ottimo artista secondo me, è un illustratore veramente di alto livello Riccardo Fattori che ha realizzato tra l'altro queste opere per un marchio di cioccolata che è la Molina di Quarrata, tra l'altro una cioccolata veramente spettacolare e nulla, ci ha dato la possibilità di esporre alcune delle sue opere sono queste opere che saranno in esposizione per un intero... Ne abbiamo sette opere, tutta la collezione che lui ha realizzato su Pinocchio sono il doppio una quindicina circa e ne abbiamo preso soltanto queste anche perché poi noi siamo... il museo è un pochino pieno per fortuna ecco però abbiamo preso quelle più significative. Giuseppe, prima di passare alle successive interviste ricorda ai telespettatori che il museo sarà aperto, in quali orari, in quali giorni, soprattutto durante le festività Allora il museo è aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 18 ora sotto il periodo di natalizio uno può verificare sul nostro sito appunto museodelgiocattolo.it oppure sulla pagina Facebook che è appunto Museo del Giocattolo di Pinocchio o ancora più semplicemente digitandolo su Google dove appare appunto tutti gli orari di apertura perché il giorno di Natale saremo chiusi e comunque anche per dare un momento di essere in famiglia più tranquillamente e anche la vigilia, il pomeriggio saremo chiusi. E come avevamo detto in apertura dei servizi avevamo visto entrare nel museo il Cavaliere Luciano Artusi e ha finito il suo giro, la sua visita è la prima volta che lo vede ovviamente lo vede con occhi un po' diversi da un visitatore qualunque perché lui è un profondo conoscitore soprattutto della storia di Firenze del periodo fine Ottocento perché il tuo antenato Artusi viveva proprio qui sull'angolo di Borgo San Lorenzo mi sembra con Piazza del Duomo e Carlo Lorenzini viveva in Via Paddea e quindi erano vicini di casa e entrambi accomunati dalla conoscenza del mercato centrale dal quale Artusi attingeva anche i sapori Pellegrino era amico di Carlo Lorenzini e frequentavano con Mantecazza il circolo dei risorti che aveva sede in Via Cavour dove c'è ora il consiglio della regione al primo piano c'era il famoso Palazzo Bastogi Palazzo Bastogi il circolo dei risorti che era un circolo intellettuale dove giocavano ai Sibillone che era quel gioco che andava di moda ora va di moda il burraco ma non con le carte era un gioco di intellettuali il Sibillone perché si riunivano questi personaggi e si davano un tema ad esempio la religione l'amore l'aborte qualcosa del genere e poi chiamavano un bambino o una bambina che entrando doveva dire una sola parola quindi uno entrava diceva paglia ecco e allora le disquisizioni ognuno per il proprio conto doveva con questa parola paglia doveva riportarsi al concetto dell'amore e così e questo era un gioco che facevano anche molto da intellettuali molto da intellettuali ma faceva Pellegrino e lo faceva anche Lorezzini allora al di là di questo ora è conclusa la tua visita al museo e ci vuoi dare un tuo primo giudizio ecco mi sono sentito ritornare bambino perché tanti di questi giocattoli l'ho avuti anch'io e quindi la frottola i trenini i automobilini i biciclettini i tricicli queste cose qui veramente ma poi conservate che sembrano tolte di vetrina insomma conservate con quell'amore che solamente i collezionisti hanno vero e quindi un museo molto fresco molto brillante però ci sono anche balocchi che risalgono al 1600 1700 quindi pupazzi marionette oppure coloro che hanno raccolto il testimone delle vecchie maschere della commedia dell'arte è vero è vero e poi ho visto anche molto dedicata a Pinocchio e questo a parte i giochi a parte i balocchi ma i soldatini ci sono ah soldatini certo ma addirittura io mi ricordo i primi soldatini che ho avuto io erano di carta e si ritagliavano e si mettevano in piedi piegando la base piegando la base sì e quindi qui c'è anche tanto Pinocchio e anche tante pubblicazioni pubblicazioni come tu sapevi che c'erano delle traduzioni di Pinocchio in abruzzese in siciliano per me è stata una scoperta è stata una scoperta perché che era stato tradotto in tutte le lingue e che era insieme al libro cuore al libro cuore è il libro la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene del mio avvo pellegrino era uno dei libri è stato ed è uno dei libri più venduti e più conosciuti in tutto il mondo non in Italia in tutto il mondo quindi tradotto in tante lingue ecco qui però non sapevo che nei vari dialetti italiani quindi per me è stata una scoperta e poi venire in un luogo come questo ho detto io ci fa ritornare bambini e ci fa assaporare e quindi quando uno va via va via ho il sorriso sulle labbra Gianni Ceccantini è il collezionista che ha prestato al museo questa straordinaria collezione di libri su Pinocchio come abbiamo detto libri su Pinocchio ce ne sono milioni in tutto il mondo tradotti in tutte le lingue ma questa collezione ha una particolarità ci sono dei Pinocchi tradotti in siciliano napoletano in abruzzese nei dialetti italiani e quindi vorrei chiedere a Gianni subito come è nata la passione per il collezionismo in particolare per questo tipo di collezione e come ha fatto poi a trovare queste pubblicazioni di nicchia per esempio una tradotta nel dialetto se lo possiamo così chiamare di Badia Prataglia quindi non di una grande città o di un'area vasta e quindi anche dialetti molto localizzati che editorialmente sono anche anti-economici quindi come è stato possibile questo piccolo miracolo editoriale? e diciamo è cominciato tutto per caso gironsolavo un giorno a Nuoro perché mia moglie è sarda e in una libreria di Nuoro per caso a trovare questo volumetto questo saspeleas de finecco e da lì mi incuriosì e ho cominciato a cercarli quanti anni fa è successo? eh tanti saranno diciamo una ventina d'anni buoni 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 e quindi poi come hai fatto a trovarli? e mi sono messo in contatto mi ha aiutato molto in una libreria e comunque mi sono messo in contatto con le case editrici e di molte volte addirittura con gli stessi autori perché sono prodotti e non si trovano in commercio diciamo non si trovano nelle librerie quindi ha fatto un lavoro un lavoro un po' l'ho cercato l'ho cercato veramente siamo messi in contatto allora io ho visto magari qualcuno mi è sfuggito uno in siciliano questo in sardo poi uno in piemontese in piemontese in milanese in dialetto di Ascoli delle Marche tutte le regioni italiane e quindi non è rimasto scoperto è rimasto scoperto l'Abruzzo e il Molise perché sono fatto una ricerca anche con delle librerie dell'Abruzzo non c'è io invece non c'è proprio non esiste una copia non esiste proprio una copia reperibile sia l'Abruzzo che il Molise e quindi queste due me le sono fatte tradurre da altri personaggi l'Abruzzese me le sono fatte tradurre dall'associazione Abruzzesi Fiorentini che si sono resti disponibili c'è diciamo la stampa come queste ma non c'è il libro del Molise è uguale mi ha aiutato un'amica molisana quindi c'è anche in Ligure tutte le regioni italiane sono riuscito a fare Calabrese Brasilicata tutte le regioni allora grazie per averci regalato questa graditissima sorpresa ringrazio con l'arrivo con l'arrivo di Sara Funaro assessore alla welfare del Comune di Firenze si inaugura ufficialmente la mostra e quindi noi concludiamo il servizio con il suo intervento una mostra bellissima una mostra che racconta il nostro passato che racconta storie straordinarie che ancora oggi insegnano tantissimo una mostra per la quale il mio auspicio è che possa essere visitata da tanti bambini da tante famiglie e da tante scuole fiorentine infatti la speranza è che le scuole vengano e attraverso queste che sono opere d'arte a tutti gli effetti che fanno parte delle nostre infanze e delle infanze anche dei nostri nonni ci sono anche diversi piani di lettura c'è il piano pedagogico storico assolutamente sì favolistico e è fondamentale soprattutto lavorare con i nostri bambini e fargli vedere non solo quello che è il presente ma anche fargli vedere il nostro passato con quelli che sono tutti i significati sono sicura che tante scuole aderiranno e che questo diventerà un luogo estremamente frequentato da tutti i nostri bambini grazie a tutti i nostri